B blocco, 3.007 di cilindrata, 4 cilindri. Molto interessante è il sistema di lubrificazione e raffreddamento. Fiat 12-16 HP del 1902. Automobile molto interessante sia da un punto di vista storico che ingegneristico tecnico. Al momento l'auto è funzionante, fortunatamente, e da un punto di vista tecnico è una delle prime vetture con il radiatore a nido d'ape, seconda solo al radiatore progettato da Maybach per Mercedes. Il progetto di tutta la parte ingegneristica viene da Giovanni Enrico. Il motore è un motore B blocco, 3.007 di cilindrata, 4 cilindri. Molto interessante è il sistema di lubrificazione e raffreddamento. Sono uniti assieme, perché, semplice motivo, l'olio sta sopra l'acqua. All'interno delle camicie dei cilindri, chiaramente sono avvolte d'acqua, quest'acqua viene collegata tramite un tubo a un tubicino trasparente che dà alla pompa dell'olio, più l'acqua all'interno delle camicie si riscalda, più si espande e più questa sale all'interno della pompa dell'olio, spingendo l'olio a scendere tramite dei tubicini a lubrificare le bronzine del motore. Sempre in termini di lubrificazione, la lubrificazione all'interno della coppa, i tre supporti della coppa, uno ridà lubrificazione all'interno della stessa coppa, mentre l'altro è posto più in fondo verso il volano, è a perdere e quindi va a lubrificare il volano che sta arretrato rispetto al resto del motore. L'ultimo supportino di banco invece dà lubrificazione a tutta la cascata di ingranaggi. Altra cosa interessante è l'acceleratore, acceleratore che è semi-automatico possiamo dire, nel senso che come molte auto dell'epoca ha regolatore di giri di watt, e quindi a un certo punto queste due massi centrifughe vanno ad aprirsi, quando vanno ad aprirsi vanno a spingere indietro una leva che fa alzare l'acceleratore sotto il piede. In questo modo non si può andare fuori giri. Allo stesso modo anche schiacciando a fondo troppo l'acceleratore, l'auto non può neanche morire, ha la regolazione sia agli alti sia ai bassi volendo. Sempre da un punto di vista tecnico interessante, sotto a collegare l'albero motore con l'albero primario del cambio, troviamo un giunto elastico che solitamente si trova nelle trattrici e nei trattori. Questo giunto è in cuoio e permette a doppia funzione, una di non far grattare le marce, la seconda, siccome il telaio è prettamente in legno, legno quindi materiale flessibile, permette all'albero del cambio e all'albero del motore di poter stare su due assi leggermente diversi senza rompersi. A livello invece di carburatore, il carburatore aveva un sistema di doppia entrata dell'aria, uno veniva controllato direttamente dall'abitacolo ed era all'entrata dell'aria fredda per fare la corretta miscelaria e benzina, l'altro invece veniva collegato direttamente allo scarico, non nel senso che ritornavano i gas combusti nel carburatore ovviamente, ma c'era una piccola ghiera messa sullo scarico su cui si faceva passare l'aria esterna, l'aria ambiente, e l'aria così riscaldata passava all'interno del carburatore. Questo serviva perché le miscele, le benzine dell'epoca, molto grasse richiedevano aria più calda per poter funzionare correttamente. A livello invece di frenare, perché quest'auto andava anche frenata, non abbiamo i moderni freni a disco, abbiamo dei freni a nastro, solo sulle ruote posteriori, per due diversi motivi, uno all'epoca strade in ghiaia, quindi tanta paura del sottosterzo, altro motivo non avevamo il servo sterzo, quindi più peso si andava a mettere sulle ruote anteriori, più forza bisognava fare per girare il volante, quindi si optava solo per freni al posteriore. Da questa prospettiva possiamo ammirare sia il freno a nastro, composto da tanti piccoli segmenti in legno, quindi il legno fa un attrito, un pochissimo attrito, ecco, e anche la trasmissione a catena, ancora a catena, anche se ci sono costruttori all'epoca, come Cerano, che già nel 1901, ha la trasmissione aggiunto cardanico. Fiat rimane su quella a catena, perché era la trasmissione più sicura. Oltre a questo, si intravedono le balestre, le nostre sospensioni a balestra, durante il restauro abbiamo smontato tutte le foglie delle balestre, abbiamo fatto un trattamento in acido contro la corrosione, rimontato ogni singola foglia della balestra, avvolte in queste corde di canapa, imbevute anch'essi di olio, per mantenere la lubrificazione di tutto il sistema. Oltre a questo, sempre dalla prospettiva sul retro, si vede la porticina di ingresso per i passeggeri. Questa è una tipica corzeria TUNO, la porticina presenta un piccolo seggiolino ribaltabile per un passeggero in più. Valvole d'aspirazione automatiche, che quindi funzionano semplicemente per depressione, invece valvole di scarico, che sono nello stesso albero, che fa funzionare la fasatura dei martelletti. Chiaramente in questo motore non abbiamo una candela, ma abbiamo ancora un vecchio sistema a martelletti. Martelletti che sono quasi sempre a massa, nel momento opportuno vengono aperti e fanno un arco di scintilla maggiore di quello che sarebbe una semplice candela. In un unico albero, quindi abbiamo sia la regolazione, la fasatura della scintilla, sia la regolazione e la fasatura delle valvole di scarico. Tutto in un unico albero. Messe in moto della vettura, ovviamente non si gira la chiave come al giorno d'oggi, abbiamo un avviamento a manovella, ma prima dell'avviamento a manovella, in questo caso bisogna controllare sicuramente il livello dell'acqua del radiatore, punto numero uno fondamentale, fare il cicchetto, il classico cicchetto per la benzina, e in questo caso abbiamo un'auto che si va a regolare automaticamente il minimo, quindi non abbiamo bisogno di, come in altre automobili, delle leve, del minimo, della regolazione, eccetera, se lo regola da solo, con lo stesso meccanismo di regolazione centrifuga di watt che serve per l'acceleratore. da questo lato fa tutto lei, lato invece di accensione del desiderio della manovella lo fa una buona spalla, ecco. Questo motore non gira in senso anti-orario come i classici motori dell'epoca, ma gira in senso orario, quindi leggermente diverso. La leva a mano controllava i freni sulle ruote posteriori, mentre il pedale controllava un altro freno che però questo era posto sulla trasmissione. Da un punto di vista estetico invece, come detto, telaio in legno, carrozzeria, legno di noce, ruote in legno, avevamo otto strati di vernice diversa, siamo riusciti a scendere fino allo strato originale voluto ancora da Vincenzo Florio, i primi strati sono stati tolti con uno sverniciatore, mentre gli strati successivi con dell'alcol. Gli ultimi strati in particolar modo sulla ruota, tutti bisturino a mano, quindi i bisturi, ore di lavoro a mano, sono ancora chiaramente da finire, come si può notare, ma sono i lavori che andremo a fare. Automobile che viene comprata in origine da Vincenzo Florio e successivamente nel 1905 viene venduta a Michetti, Michetti che è stato uno dei pittori della regina Margherita, dopodiché nel 1937 viene donata al museo dell'automobile. e anche se non per l'alcol. Grazie a tutti.